Il Signore sia con noi, dal Dantiero, secondo Dantiero, con il tempo Gesù dice a voi, pregando, non spiegate parole con l'immagrazione e si fregono a venire e ascoltate la corso di parole. Non si ha detto che come l'oro, perché il Padre vostro è santo e quando il fosse a venire e sottotre, prima ancora, che viene e sile a me. Voi voi pregate così, Padre Nostro di Venezia, sia Sant'Ignuno, Vene del Torre, sia Bacca come il cielo, così in terra, che il nostro Padre quotidiano ripete a noi, i nostri enti, come anche noi, ripetiamo anche i nostri dettitori. No, e non abbandonare la tentazione, ma libera sia salvata. Se voi infatti perdonete gli altri, il Padre vostro è il Signore dell'Anche voi, ma se voi non perdonete gli altri, neppure il Padre vostro credo di venire al nostro volumente. Alcuna me è il Signore. Tornate a me. Grazie.